In questo video vi spiegherò quali sono le migliori carte di credito gratuite disponibili in Italia. In questo video abbiamo creato una lista delle migliori carte conto secondo gli ultimi aggiornamenti e recensioni degli utenti. Continua a vedere questo video e troverai tutte le informazioni che ti servono per scegliere la carta di credito a zero canone migliore per te, segnalandoti solo quelle dove non esiste alcun costo o spesa da pagare. Attualmente esistono davvero tantissime carte di credito gratis, a costo zero, ovvero le carte conto, che non hanno alcun canone annuale. Devi però sapere che alcune di queste carte potrebbero avere costi ulteriori come quelle in riferimento all'estratto conto o al bollo. Le carte di credito, così come quelle di debito, al giorno d'oggi sono utilizzate costantemente. Questo perché sono molto semplici da utilizzare, possiedono sistemi di sicurezza all'avanguardia e soprattutto sono accettate da quasi tutti gli esercenti. Ora probabilmente ti starei chiedendo, ma è possibile che una carta di credito sia davvero gratis e non ci siano invece dei costi nascosti? Per far sì che tu possa ottenere almeno una delle migliori carte di credito gratis, devi essere in possesso dei seguenti requisiti. Avere almeno 18 anni di età, essere in possesso di un conto corrente, anche uno cointestato va bene, possedere il merito creditizio, ovvero non risultare tra i cattivi pagatori e naturalmente tutte queste condizioni non sono necessarie nel caso in cui tu voglia avere una carta prepagata. Tra le carte che ci hanno più consigliato e di la quale abbiamo sentito parlare meglio, troviamo la carta UIDIBA, la carta che banca, via buy e hype. Nel nostro canale YouTube troverete tutte le recensioni riguardanti queste carte nel dettaglio, quindi vi invitiamo a guardare i video rilevanti in maniera tale che potete imparare tutte le specifiche tecniche e scegliere quella che è la carta migliore per voi e le vostre esigenze. Vi ringraziamo per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo!